Dal 92 che non arriva un Papa a Trieste, sono molto fiero e molto soddisfatto perché avremo una grande visibilità e naturalmente l'arrivo del Santo Padre veramente sarà un'emozione per Trieste, per tutto il Friuli Venezia Giulia, per tutta la zona confinaria, per cui sono molto molto soddisfatto. Chiude il cerchio anche di tanti enormi personaggi che sono arrivati a Trieste nei suoi mandati, dai tre presidenti, insomma, in poi. Certo, è 20 anni che arrivano di tutto e di più, però il fatto che arriva il Santo Padre mi rende molto orgoglioso.